Musica Mancano ancora tre giorni alla cerimonia di apertura di questa ISDE 2013, la sei giorni d'enduro del centenario ma c'è già tanta tensione, tanta fibrillazione all'interno del paddock e non solo. Abbiamo con noi, per nostra fortuna l'abbiamo strappato, i numerosi impegni, Franco Gualdi, il nostro responsabile nazionale per quanto riguarda la federazione dell'enduro ma in questo caso qualcosa di più, ovvero quello a cui fa capo tutta più o meno l'organizzazione, la logistica, il percorso della sei giorni. Franco intanto benvenuto, come sta andando? Dacci il punto della situazione e della fotografia ad oggi di tutti i vari settori della regia organizzativa. Sì, diciamo che siamo a un buon punto, oramai quello che è stato fatto è stato fatto, ora bisogna solo ritoccare le cose che non funzionano. Sicuramente abbiamo già ricevuto dei complimenti da parte di tutti gli addetti perché comunque vista da fuori l'organizzazione è molto avanti, i percorsi sono tutti segnati, i piloti hanno già da lunedì potuto vedere tutte le prove speciali, questo non è mai successo in nessuna sei giorni e ovviamente dall'interno dobbiamo risolvere tutti questi problemi che fuori non si vedono, ma credo che faccia parte del gioco in un'organizzazione così imponente i problemi sono, è la quotidianità, è una cosa normale. Niente, il percorso si presenta, come è sempre stato detto, non particolarmente difficile ma con dei punti comunque abbastanza critici e di difficile percorrenza. Il nemico numero uno dei piloti sicuramente sarà il caldo, ma proprio il nemico numero uno sarà la polvere, ma da domani iniziamo a far sul serio, nel senso che la gara parte con le prime moto punzonate. Franco Gualdi, lo ricordiamo, campione del mondo di enduro e ha fatto anche il protagonista di tante sei giorni, una domanda più personale, è meglio viverla da pilota o da organizzatore una sei giorni? Secondo me innanzitutto va vissuta da pilota perché credo che sia un'esperienza bellissima e che non tutti possono vivere. Vissuta questa esperienza poi chi ha la possibilità di viverla da organizzatore va, non dico a coronare una carriera però, voglio dire che da organizzatore puoi anche comprendere quello che da pilota non comprendevi. Certo organizzare una gara come questa è difficilissimo ma mai come in questa occasione sono andato a capire quanto siano da ringraziare i motoclub che organizzano gare. Hai avuto modo comunque di dare un'occhiata anche a quella che è la preparazione, il punto della nostra nazionale italiana, che chiaramente noi stiamo seguendo con un occhio di particolare riguardo. La nazionale la sto vivendo un po' in un modo non diretto perché non ho il tempo di fare tutto però sono in collegamento con Telefonico, con Cristian Rossi, con Bignami e con tutti i personaggi che stanno a loro volta organizzando tutta la squadra. Ho parlato oggi anche con dei piloti, hanno visto quasi tutte le prove speciali, lunedì inizieremo veramente a leggere subito dalla prima prova speciale a cosa possiamo ambire. Poi la sei giorni è lunga, può capitare di tutto ma con un Salvini che non avevamo da anni ci siamo avvicinati tantissimo ai cosiddetti francesi, non dimentichiamo gli australiani, gli americani. Però diciamo un Salvini ci può portare un vantaggio enorme, questo insomma ci avvicina tantissimo ai francesi perché il punto di riferimento, l'obiettivo è la Francia. Ringraziamo Franco Gowaldi, vi ricordo 36 nazioni, 630 piloti, la sei giorni sta arrivando, aspettiamo solo voi gli appassionati dalla Sardegna e naturalmente da tutti i carri. Ringraziamo Franco Gowaldi